Bene, continuiamo il nostro studio dei vettori. Abbiamo visto la volta scorsa che un vettore è una grandezza fisica caratterizzata da una intensità o lunghezza, una direzione e un verso. La cosa più semplice è immaginare i vettori come delle frecce. Disegno una freccia, fatemi disegnare in verde per esempio. Ecco, la intensità o lunghezza della freccia è proprio questa distanza. Questa è la lunghezza che dà l'intensità della freccia stessa. La direzione, fatemi disegnare in blu, è la retta sulla quale la freccia si trova. E il verso, disegniamolo che ne sono in viola, è uno dei due possibili. Ok, quindi da A a B oppure da B ad A. D'accordo? Il modo in cui si rappresenta un vettore è con una lettera latina minuscola con una freccia sopra, oppure si rappresenta il segmento A B con una freccia sopra, intendendo che il vettore va da A a B. Oppure il vettore è opposto e da B ad A. Prima l'origine e poi la punta. Abbiamo visto che è utile utilizzare vettori unitari che hanno quindi lunghezza pari a 1. Ok, questo simbolo sta a indicare la lunghezza del vettore. E questi sono utili perché possiamo utilizzarli per esprimere gli altri vettori in funzione di questi. Immaginate che questo sia il nostro vettore unitario. Lo faccio qui. Ecco, questo è il nostro vettore unitario. Che per ricordarci che è unitario, di solito si utilizza il cappuccio sopra. Ok, questo indica il fatto che è un vettore ma a lunghezza 1. Qualsiasi altro vettore, indichiamo per esempio in rosso, eccolo qui, che è lungo a una lunghezza pari a 1, 2, 3, in questo caso 4 o 4 volte U questo vettore chiamiamolo UB può essere espresso come U multiplo, quindi più 4 volte il vettore unitario. Invece per esempio se avessimo un vettore che ha verso l'opposto quindi che ne so ecco così lo disegno qua sotto per distinguere un poco meglio ecco questo chiamiamolo che ne so Z Z è lungo 3 volte U però va da destra a sinistra quindi è un multiplo negativo il segno in questo caso ti ha in conto del verso ok e quindi se per esempio devo sommare i due vettori V più Z non faccio altro che scrivergli uno di seguito all'altro 4 U meno 3 U qui come nel caso dei monomi i due avversori sono simili quindi posso raccoglierli quindi il vettore S Roma insomma sarà 4 meno 3 che fa più 1 U per cui non faccio altro che scrivere sommare dicevo algebricamente la parte dei vettori ma questo l'avevamo già visto anche la volta scorsa quindi in questo caso la somma vettoriale diventa una somma algebrica quindi questa ripeto è una somma vettoriale mentre questa dato che i vettori sono paralleli questa è una somma algebrica perché i due vettori avendo lo stesso essendo multipli dello stesso versore U e V V e Z sono paralleli cioè hanno la stessa direzione ma se i vettori in generale vettori diversi hanno direzioni diverse quindi come mi comporto per la somma beh immaginiamo immaginate che ne so di avere due spostamenti fatemi disegnare tutti e due in rosso uno spostamento che ne so verso nord chiamiamolo A e poi uno spostamento in verde verso nord-est B ora se disegniamo i due spostamenti proprio immaginate di camminare lungo questo tratto e poi lungo questo tratto alla fine il punto di arrivo è lo stesso che se avessimo camminato lungo la direzione che va dalla origine del vettore A alla punta di B questo chiamiamolo C è il vettore somma di A e di B e qui l'abbiamo costruito con il metodo punta-coda questo è un metodo utile per costruire il vettore somma forse vale la pena di ripetere il fatto che torniamo un attimo indietro ecco è chiaro che qui se Z fosse stato più 3 ok qui avrei avvito 4 più 3 quindi 7U ovviamente d'accordo? nel caso del metodo punta-coda qui il metodo punta-coda è uno strumento utile per disegnare il vettore somma in che cosa consiste? beh disegno i miei vettori da sommare uno di seguito all'altro cioè disegno il primo vettore e poi il secondo lo disegno in modo che la sua origine coincida con la punta del precedente dopodiché congiungo l'origine del primo con la punta dell'ultimo e il vettore che ottengo la freccia che ottengo è il vettore somma un altro modo si chiama metodo del parallelogramma quindi oppure uso il metodo del parallelogramma che è un altro metodo per sommare per disegnare soprattutto la somma dei vettori in che cosa consiste questa? qui attenzione riferito al caso di precedente i tre vettori A, B e C non formano un triangolo rettangolo quindi non posso parlare di cateti di ipotenusa c'è il caso in cui A e B siano perpendicolari l'uno con l'altro che è il caso che tratteremo a breve in cui il triangolo che si forma è rettangolo che ha dei vantaggi rispetto ai triangoli qualsiasi però ci arriviamo tra un istante vediamo prima il metodo del parallelogramma riprendiamo i due vettori di prima e vediamo se riesco a copiarli quasi ecco il vettore di prima questo è il vettore A poi ridisegno il vettore B con la stessa origine in A di A quindi lo disegno in questo modo in questo caso cosa succede i nostri due vettori li consideriamo come i due lati consecutivi di un parallelogramma quindi ridisegno il lato B parallelo a questo e qui ahimè vado a coprire la figura poi il lato A lo ripeto da questa parte e il vettore somma C non è altro che la diagonale del parallelogramma che ha la stessa origine dei due vettori e due vettori questo è il vettore C somma questo si chiama metodo del parallelogramma quindi ripeto se ho due vettori da sommare li disegno con la stessa origine cioè applicati nello stesso punto costruisco il parallelogramma che ha questi due lati cioè A e B come lati consecutivi quindi prendo il lato B e lo copio dall'altra parte quindi il lato parallelo a B ma che origina la punta di A costruisco il parallelogramma e la diagonale che ha come origine l'origine comune dei due vettori è quella che mi disegna il vettore somma vediamo un altro esempio se consideriamo che ne so ecco questo come il primo vettore e questo come il secondo allora qui abbiamo fatemi disegnare tratteggiati il nostro parallelogramma è questo il vettore somma è questo qui il metodo del parallelogramma o il metodo punta coda sono equivalenti il metodo punta coda ha un vantaggio a dire la verità se sommo in caso abbia più vettori quindi se sommo A B e C il vettore somma S A più B più C se lo faccio se costruisco questo vettore col metodo del parallelogramma dovrei sommare prima A e B quindi fare il parallelogramma con A e B e poi fare il parallelogramma con la somma di A B più C invece se uso il metodo punta coda posso fare tutto una volta solo immaginate che questo sia il nostro vettore A questo è B e questo è C per fare l'esempio allora il vettore somma lo faccio direttamente partendo dall'origine di A fino alla punta di C posso fare in un colpo solo invece col metodo del parallelogramma dovrei prima fare A più B e poi sommare il risultato a C ok come tutte le operazioni anche questa di somma è commutativa associativa e ha le proprietà che abbiamo visto solamente che attenzione torniamo a prima ecco qui è chiaro che questa somma la somma vettoriale non è una somma algebrica cioè la lunghezza di C non è la lunghezza di A più quella di B in generale in un triangolo la lunghezza di un lato è più piccola della somma degli altri due per cui se i due vettori A e B non sono paralleli non posso semplicemente sommare le lunghezze cioè dati A e B si pone il problema di A più B ecco questo è il vettore somma S quanto è lungo e come è orientato è chiaro che la lunghezza di S in generale è più piccola di quella di A più quella di B proprio perché per come abbiamo costruito S quindi andiamo a vedere i due esempi di prima questo è A e questo è B questo è il vettore il vettore S è più corto della somma degli altri due d'accordo? c'è un caso particolare ecco che ritorna a quello che avevate accennato prima in cui se A è perpendicolare a B immaginate quindi in questo caso il vettore A qui ho il vettore B tra di loro sono perpendicolari questo angolo è retto allora il vettore somma S questo posso sì considerarlo come l'ipotenusa di un triangolo rettangolo in questo caso la lunghezza di S la trovo col teorema di Pitagora cioè è la radice quadrata della lunghezza di A al quadrato più la lunghezza di B al quadrato per il teorema di Pitagora ma questo vale solo se i due vettori sono perpendicolari allora vale questo altrimenti no quindi possiamo sfruttare questa proprietà in generale beh in realtà sì in realtà sì per quale ragione beh il vi vedo una domanda quando dovremo calcolare i vettori sarà necessario fare i disegni effettivamente il disegno aiuta molto aiuta molto fare il disegno per farsi un'idea di come è fatto il vettore insomma in generale come abbiamo appena visto c'è un'altra domanda che dice ma se sappiamo solo le misure di A e B basta sommarli per trovare C ok vai tranquilla allora sommare i due vettori ok quindi trovare il vettore la lunghezza del vettore somma è tra virgolette semplice nel caso in cui i due vettori siano perpendicolari ma in generale la lunghezza dipende da come sono orientati i due vettori non solo dalla loro lunghezza quindi devo avere informazioni anche sull'angolo che i due vettori fanno l'uno con l'altro cioè come sono orientati c'è una una strada che ci consente di trasformare la somma da vettoriale in algebrica in generale qual è? è la legge di scomposizione immaginate qui avevamo due vettori orientati in un modo qualsiasi e abbiamo imparato come costruire il vettore somma adesso facciamo l'inverso cioè prendiamo un vettore qualsiasi e lo immaginiamo come somma di due vettori ovviamente due vettori convenienti quali sono i vettori convenienti? beh sono i vettori che immaginiamo diretti lungo gli assi cartesiani quindi abbiamo la scomposizione del piano cartesiano quindi prendiamo i nostri assi quindi due reti perpendicolari perché perpendicolari? tra un attimo lo capirete perché così ci rendono la vita più semplice questa è l'asse delle x questa è l'asse delle y ok? prendiamo un vettore qualsiasi che origina dallo zero prendiamo questo nostro vettore che ne so a e immaginate di proiettarlo sui due assi quindi posso immaginare questo come la composizione di due assi due vettori uno orizzontale e uno potremmo disegnare in blu verticale questo è a y quindi immagino a come la somma di due vettori uno verticale e uno orizzontale questi due vettori prendono il nome di componenti ok? e è chiaro che se conosco la lunghezza dei componenti allora è facile trovare a perché la lunghezza di a è data dal teorema di Pitagora quindi la radice quadrata della lunghezza della componente x più la lunghezza della componente y al quadrato c'è sfrutto il teorema di Pitagora ok? non solo ma le due componenti posso sempre immaginarle come multipli di versori opportuni quindi se per esempio indichiamo con questo questo è il versore lungo l'asse delle x lo mettiamo con la x col cappuccetto sopra mentre questo è il versore lungo l'asse delle y lo mettiamo y col cappuccetto sopra quindi questi sono i due versori x che è lungo 1 e il versore lungo l'asse delle y che è lungo 1 allora posso immaginare che la componente x sarà un certo numero per il versore x e la componente y del mio vettore sarà un certo numero per la componente y facciamo un esempio se abbiamo che ne so ecco qui abbiamo x qui abbiamo y qui c'è 1 2 3 eccetera 1 2 3 eccetera questo è il nostro x questo è il nostro versore y se ho la componente x che è lunga 3 la componente y che è lunga 2 ok allora il nostro vettore sarà 3x più 2y e quindi avrà una componente orizzontale che abbiamo disegnato in verde se non sbaglio è lunga così 3 volte u questa quella verticale in blu lunga 2 questa e quindi il totale sarà dall'origine fino al punto di coordinate 3 2 questa questo è il nostro vettore a per cui la lunghezza di a non sarà altro che la radice quadrata di la lunghezza di ax alla seconda più ay alla seconda ma la lunghezza di ax è 3 più la lunghezza di ay è 2 alla seconda e quindi avremo 9 più 4 quindi la radice di 13 abbiamo trovato la lunghezza del nostro vettore non solo ma in questo modo possiamo anche scomporre il vettore e costruire la somma di vettori diversi basta scomporli tutti e due immaginate di avere un altro vettore b che abbia come componenti che ne so 1 lungo x e 3 lungo y quindi fatto in questo modo abbiamo x qui c'è 1 1 2 3 quindi il suo avrà 1 lungo x questo è bx e poi 3 lungo y questo è y quindi b è fatto in questo modo questo è il vettore b se devo trovare il vettore somma s a più b sapendo che a vale l'esempio di prima era 3 più 2 ok quindi 3 lungo x più 2 in y e b è 1 in x più cos'era 3 y allora la somma la ottengo semplicemente scrivendo i due vettori di seguito l'uno all'altro quindi avrò 3 x più 2 y per a più 1 x più 3 y per b questo ripeto è a e questo è b ma qui ho componenti parallele questa si può sommare con questa e invece questa si può sommare con questa perché sono multipli dello stesso versore di conseguenza avrò che il vettore somma posso scriverlo come 3x più 1x più 2y più 3y dopo torno indietro e ripeto quindi avrò 3 più 1 che fa 4x più 2 più 3 che fa 5y in questo modo ho che il vettore somma s avrà una lunghezza che sarà la somma dei quadrati delle componenti x più y alla seconda quindi per una lunghezza che è 4 alla seconda più 5 alla seconda questa qui è 6x questa è 6y quindi avremo 16 più 25 che fa quindi la radice di 1 41 ok che sarà il numero che sarà non ha importanza ma abbiamo un modo semplice per operare per trovare la somma dei due vettori quindi le caratteristiche del vettore risultante del vettore somma dei due basta sommare algebricamente componente per componente perché lo posso fare perché i due componenti sono parallele questa è parallela x questa è parallela x questa è parallela y e questa anche quindi qui ripeto mi ritrovo con questa che sarà sx e questa s y e queste vanno messe nella somma secondo il teorema di Pitagora ecco perché sfruttiamo la composizione scomponiamo il vettore lungo due assi scusate due assi perpendicolari perché potremmo scomporle anche lungo assi non perpendicolari ma in quel modo non potremmo usare il termine di Pitagora ok facciamo un altro esempio ci sono domande? facciamo ancora un esempio supponete di avere due vettori chiamiamoli a e b sempre a che ne so 2x e meno 3y anche le componenti negative vanno bene non c'è problema e b 3x più 4y e calcoliamo il vettore somma s a più b ma in questo caso anche in questo caso operiamo nello stesso modo s sarà quindi scrivo i due vettori di seguito 2x meno 3y più 3x più 4y e sommo adesso i due versori quindi ho 2x più 3x meno 3y più 4y questo mi da 5x mentre questo mi da più y perché meno 3 più 4 fa 1 quindi il vettore somma a componente x che è 5 componente y che è 1 quindi la sua lunghezza quindi avrò che se lo intendiamo in questo modo sx più sy avremo che la componente x è lunga 5 la componente y è lunga 1 per cui l'intero vettore ha una lunghezza s che è la radice quadrata di la componente x alla seconda più la componente y alla seconda sotto radice quindi 5 alla seconda più 1 alla seconda è radice di 26 ok è ovvio che questo funziona anche se ho tre vettori quindi tra l'altro andiamo a disegnarli qui avremo qui c'è x qui c'è y il primo vettore era dove era a 2x meno 3y quindi 2 in x e meno 3 in y 1 2 3 quindi questo è il vettore a mentre b era 3 e 4 3x quindi qui c'è il 3 e 4 1 2 3 e 4 quindi questo è b il vettore somma era componenti 5 e 1 4 5 e 1 quindi la componente disegniamo in verde 5 e 1 5 e 1 quindi arrivo qui cerco questo è il vettore a somma s è chiaro che se lo giochiamo con b era così era 4 potete ricordare 3 e 4 3 e 4 3 x più 4 y allora questi due sono la componente x la componente y sono le coordinate del punto della punta del vettore questo questo appunto qui ha coordinate 3 e 4 così come per gli altri punti questo punto la punta del vettore a coordinate cos'era 2 e meno 3 idem la somma il vettore somma a una punta che ha coordinate 5 e 1 quando calcolo il vettore somma le sue componenti sx e s y mi danno direttamente il punto a cui congiungere l'origine per avere il vettore risultante il vettore somma che questa è un'altra comodità fornita dal fatto che usiamo componenti cartesiano ok bene spero che di essere stato chiaro per oggi direi che ci possiamo fermare qui provate a rifare gli esercizi che vi ho proposto in questa lezione se avete difficoltà ne riparliamo la volta prossima che ci sono